Un individuo non identificato ha aperto il fuoco con due colpi di pistola contro Franco Bloise, un 52enne già noto alle forze dell'ordine, il quale però è rimasto illeso nell'attacco. L'incidente si è verificato nella contrada bruscata grande di Cassano all'Oionio. Bloise, al momento degli spari, si è trovato alla guida della propria auto, viaggiando da solo mentre faceva rientro a casa. Fortunatamente i colpi hanno danneggiato l'auto senza penetrare nell'abitacolo. Le indagini sull'incidente sono attualmente condotte dai carabinieri della compagnia di Cassano. A livello investigativo si ipotizza che l'attacco possa essere stato un avvertimento rivolto a Bloise in relazione ad affari legate agli ambienti della criminalità locale.